La speranza ci porta a rispettare tutti. La speranza ci porta a vedere nell'altro sempre un frammento di verità, perché Dio ci ha fatto diversi l'un dall'altro, ma complementari. Cioè ogni uomo, ogni donna, completa gli altri uomini e completa le altre donne. Noi siamo come un mosaico che dobbiamo essere incastrati per fare l'umanità e quindi ognuno è necessario. Cosa c'entra la speranza con questo? Perché qualcuno pensa che la speranza è semplicemente la forza di andare avanti. E' anche quella. Ma la speranza cristiana è la capacità di vedere il mondo, di vedere gli altri, di leggere la vita con gli occhi di Dio. Di leggere la vita con la vita di Cristo, cioè con il Vangelo. E nella citazione della Catechese di Papa Francesco sulla speranza che abbiamo letto ieri, a un certo punto il Papa ci dice che nelle difficoltà, nei contrasti, nelle incomprensioni, dobbiamo avere pazienza. Ed è proprio lì, in queste situazioni, diciamo, di difficoltà, di contrasti, che si vede come e se la speranza ci abita, se noi ci lasciamo abitare nella speranza. Perché il più delle volte noi cerchiamo di reagire nei contrasti, il più delle volte cerchiamo di predominare nei contrasti e nelle divisioni. Invece Papa Francesco ci dice che dobbiamo pazientare, che la pazienza è l'attesa che Dio ha per ciascuno di noi. Perché dobbiamo pazientare? Perché alla fine capiremo come in ogni persona, c'è un po' di verità, c'è un piccolo frammento di verità che messo insieme, fa poi il mosaico della verità, fa la verità. E quante volte questo l'abbiamo sperimentato nella nostra vita? Quante volte dopo tempo, tanto tempo, abbiamo scoperto, in persone che semmai abbiamo considerato nemiche o diverse da noi o lontane da noi, abbiamo scoperto delle verità. Nella pazienza la speranza ci insegna a pazientare. soffrendo, ma pazientare. E lo so che oggi questo discorso non sempre è facile, perché appunto dicevo viviamo nella cultura del dominare sull'altro, e invece noi dobbiamo pazientare, aspettare. Questo è quello che ci divide dalla logica del mondo, da come fanno gli altri, da così fanno tutti. Nelle divisioni il mondo tenta di dominare, di zittire gli altri, noi invece pazientiamo e stiamo in silenzio noi. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!